ciao amici Dove siamo oggi Lucia? Oggi siamo in Val Meledrio Un giretto semplice adatto a tutti anche se avete poche ore in una vallata molto bella, molto carina Andiamo! Abbiamo appena visto località Fosinace dove tanti anni fa c'era una vecchia fucina per forgiare metalli preziosi E ora risaliamo lungo la strada sulla sinistra orografica del fiume Meledrio Sono dentro la calcara Dove una volta avveniva la combustione per generare la calce Calce che poi viene usata per muratura o altri scopi civili, industriali E qui invece avete appena visto una delle nuovissime centraline idroelettriche Per generare energia pulita grazie all'acqua che scende dal rio Meledrio Grazie a tutti Avete visto un bivio? Noi svoltiamo a destra In questo bello autunno multicolore Anche se io oggi sono pink In questo bello autunno In questo bello autunno A presto Non lo so Scopo Non lo so Non lo so Non lo so E non lo so Abbiamo optato per il sentiero che sale verso Folgarida, da strada forestale ora diventa un vero e proprio sentiero e inizia un po' di dislivello nel bosco. Arrivati a Folgarida, eccoli i primi alberghi e ora scendiamo in Masi, in località Ronzola dove consumeremo il nostro pranzetto. Seguiteci! Siamo ai Masi di Ronzola. Guardate che carini che sono, è uscito anche un po' di sole in questa giornata tipicamente autunnale. Grazie! 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 Da località Ronzola prendiamo il sentiero numero 2 e procediamo in discesa per ritornare verso la nostra auto. Nello scendere abbiamo preso il sentiero che indicava direzione Fosinace che ci porta giù in questa vallata con un bosco dai colori davvero fantastici. in questa vallata con un bosco. Siamo alla fine del nostro giro! Lasciamo stare eh! L'incredibile look! E' stato un giro molto carino in un clima praticamente autunnale e che dire Marco? Cadono le foglie! Cadono le foglie, è autunno e lo consigliamo a tutti sotto un paio di descrizioni del giro fatto e niente tracce gps ma il giro è davvero molto semplice, pieno di indicazioni fin troppe indicazioni che vi dicono la stessa cosa ogni tre metri. Ciao amici seguiteci! Alla prossima!